Il complesso monumentale di carceri risale al XII secolo, quando alcuni monaci agostiniani che si erano stabiliti nella contrada e godevano della protezione degli estensi, ebbero in dono dal Duca di Baviera alcune terre, dove costruirono il monastero e la prima chiesetta, forse modificando un oratorio esistente. Successivamente eressero anche un ospizio dove accogliere i pellegrini. Sul finire del secolo i frati avevano ingrandito la chiesa, che fu consacrata nel 1189 dal patriarca di Aquileia, dotato il monastero di un chiostro, del quale è rimasto il lato a ridosso della chiesa, e migliorato l'edificio della primitiva foresteria, dove trovavano accoglienza pellegrini e ammalati. Grande fu l'impegno di questi religiosi, anche a favore delle famiglie stanziatesi nel territorio. Essi infatti si adoperarono lungamente nella bonifica delle terre paludose, nella costruzione di argini per tenere imbrigliate le acque dei corsi d'acqua, e di strade per rompere l'isolamento dei villaggi, fornendo aiuto all'abbattersi di carestie, pestilenze, alluvioni, che periodicamente infierivano unitamente al flagello delle tante bande armate che attraversavano la contrada al soldo delle varie signorie. All'inizio del Quattrocento i frati agostiniani furono sostituiti dai monaci camaldolesi, che diedero nuovo sviluppo all'abbazia, rinnovando l'operosità a favore della popolazione che ora poteva trarre sostentamento dalla fertilità di una terra bonificata e resa abitabile. Durante il tempo della loro permanenza, la chiesa fu ricostruita più grande e più accogliente. Il convento venne dotato di altri chiostri e di una importante biblioteca splendidamente affrescata. Anche la foresteria venne ingrandita. I monaci camaldolesi ressero l'abbazia di carcere per quasi tre secoli, diventando un riferimento primario nella regione. Poi, nel 1690, Papa Alessandro VIII, per aiutare la Repubblica di Venezia nella guerra contro gli infedeli, mise in vendita anche l'intero patrimonio monastico di carceri, che fu acquistato dalla famiglia Carminati, ricchi commercianti lombardi residenti a Venezia. I carminati decisero di fare del nuovo possedimento una fattoria agricola e apportarono al complesso tutte le modifiche necessarie. In questo mutamento d'uso degli edifici, venne gravemente alterato o distrutto gran parte dell'impianto strutturale del monastero e andò alienato e disperso anche il ricco patrimonio, non solo librario che i camaldolesi avevano riunito nel tempo e che aveva fatto dell'abbazia di carceri un centro culturale di grande rilevanza. Soltanto la chiesa rimase indenne, poiché fu affidata alle diocesi di Padova. I carminati mantennero la proprietà fino al 1951, quando donarono quanto restava dei loro beni in terra d'este alla chiesa di carceri. Il possedimento originale infatti si era molto ridotto a causa di parziali vendite effettuate nel corso dei decenni e specialmente nel 1900. L'accesso all'abbazia, in passato, avveniva da questo ingresso, unica porta che permetteva di entrare nell'ampio complesso cinto da mura che delimitavano l'area del monastero. Il piccolo edificio si lascia ammirare per il fronte merlato, il portico interno, la torre colombara, che in molti periodi dei secoli trascorsi è servita come avamposto di guardia. Oltrepassato l'ingresso, si impone all'attenzione un grandioso edificio, internamente in condizioni assai precarie, anche dopo l'intervento di pochi anni addietro che portò al rifacimento della facciata e della copertura. La struttura risalente al tempo della conduzione dei camaldolesi era connessa in origine con la foresteria e l'ospizio, noti poiché offrivano ospitalità ai poveri e ai pellegrini diretti a Roma, i quali, percorrendo una non lontana strada che avviava al centro Italia, qui potevano trovare ristoro e riposo. Il pozzo sul lato orientale è opera del Trecento, qui trasferito dal chiostro non più esistente, prossimo a quello romanico e alla residenza dell'abate. Questa dimora, modificata in villa di campagna dei Carminati, è oggi la casa canonicale e ha bisogno di restauri urgenti poiché la sua abitabilità è ridotta al solo piano terra e sono in pericolo gli affreschi e gli intarsi del piano nobile. Il palazzo, dal lato della chiesa, ha un ampio portone d'ingresso, sopra il quale si trovano gli stemmi dell'ordine camaldolese e della famiglia Carminati. Sul lato opposto è stato creato un bel giardino. La chiesa dei nostri giorni, sede parrocchiale dal 1951, è il progetto dei monaci camaldolesi. Pur appartenendo al monastero, era esterna allo stesso e quindi aperta agli abitanti del luogo. Quello che noi incontriamo come la chiesa, in realtà è il risultato di tre chiese che si sono sovrapposte nel corso dei secoli. La prima chiesa è di stile romanico, che andò incendiata nel 1400. Viene ricostruita una seconda chiesa in stile rinascimentale, con incorro rinascimentale, di cui rimane ancora il presbiterio affrescato. E poi l'ultima stanza viene costruita dopo un altro incendio, alla fine del 600, in stile barocco. Ecco, della chiesa molto interessante è sicuramente il battistero, che è la perla di tutta la chiesa. Un battistero che nasce su una stanza che ha quasi mille anni, una torre che ha mille anni, con affreschi del 300, dove sono appunto raccontati i quattro eventi della storia della salvezza, i quattro più importanti eventi della storia della salvezza. E poi ci sono degli altari molto interessanti, in stile barocco, con una tela della scuola di Guidoreni e con un'annunciazione di Luca D'Areggio. La navata adduce al presbiterio, e oltre al coro della chiesa precedente, quella a tre navate. Gli stalli linei, dove prendevano posto i monaci per intonare i canti liturgici, si trovano oggi nel Duomo di Chioggia, al quale furono ceduti quando l'abbazia fu posta in vendita. L'area del presbiterio, quella del vecchio coro, e poche altre limitrofe, sono quelle originali, poiché furono salvate dal fuoco che distrusse le precedenti chiese. Anche una parte del campanile appartiene alle origini. Entrando in chiesa, alla destra, vicino a quello che era stato l'antico ingresso dei monaci, troviamo la torre del Battistero. E' il resto romanico del complesso della chiesa di Santa Maria delle Carceri. La torre del Battistero, costruita attorno all'anno 1000, con muri di spessore di un metro e trenta, costruita in massi di trachite, non sappiamo esattamente per quale scopo è stata costruita. I monaci sicuramente l'hanno adibita ad uso sacro. E nei secoli successivi hanno affrescato le pareti, raccogliendo in questa stanza i quattro momenti più importanti della storia della salvezza. Con le mie spalle potete vedere l'annunciazione. Questi affreschi, che sono stati riportati alla luce una quarantina di anni fa, rivelano anche l'importanza di questo luogo. Ecco, oltre all'annunciazione, in questo luogo troviamo l'affresco della crocifissione, della risurrezione e della Pentecoste. Alla sommità, invece, c'è Dio, creatore, che invia lo Spirito sul Figlio e sulla creazione. Immerso nel rosso di questo muro troviamo il crocifisso, questo splendido crocifisso, che più che un crocifisso è una vera e propria via crucis. A quel tempo non c'erano i libri ed era necessario raccontare con le immagini. Così possiamo ritrovare tutte le stazioni della via crucis in questa parete, con al centro il Cristo, un volto bellissimo. Sono varie le attribuzioni di questo affresco, ma nessuna è certa. È certo che ci troviamo verso il Quattrocento, all'inizio del Quattrocento. Assieme a Maria Giovanni Battista, ai lati del affresco, troviamo anche le due figure di riferimento del monachesimo, e cioè San Benedetto e San Romualdo. Uno dei santi venerati in questa abbazia è San Isidoro. Ecco, di San Isidoro esistono due persone. Esiste San Isidoro di Siviglia, padre della Chiesa, ma quello venerato in questa abbazia è San Isidoro l'agricoltore. Anche egli spagnolo, ecco, visse nei primi secoli del secondo millennio, e viene ritratto in questa abbazia, nell'altare a lui dedicato, sia nel tondo di marmo, sia nel dipinto, sia in una statua. E si racconta in questo dipinto il miracolo di San Isidoro. Lui doveva lavorare i campi, ma era così devoto che spesso si raccoglieva in preghiera. Il lavoro doveva andare avanti, ed ecco che Dio invia il suo angelo a rari campi, mentre Isidoro poteva pregare. Del chiostro eretto agli inizi del 1200 dai monaci agostiniani, oggi possiamo ammirare soltanto il lato addossato alla Chiesa, poiché il resto della costruzione non esiste più, abbattuto dalle avversità naturali, dal tempo, dalle azioni degli uomini. Ma quanto è rimasto in piedi, da idea dello splendore e del fascino mistico che suscitava l'opera, con il succedersi delle esili colonne in pietra rossa di Verona, con l'accesso alla basilica attraverso la torre, con il pregare dei monaci nell'ora crepuscolare, con lo stormire delle fronde dei vicini boschi. Adiacente a questa piccola corte, a metà del Cinquecento, i camaldolesi, che erano subentrati ai monici purtuensi, un secolo e mezzo prima, ne erigono uno imponente per gli spazi che impegna e per le linee architettoniche di stile rinascimentale. Grandi archi sostenuti da colonne separano il porticato dal piano superiore, suddiviso in numerose stanze riservate alla vita del monastero e alla sua scuola di formazione religiosa. Al centro del chiostro un pozzo monumentale, ottagonale, completato alla sommità dallo stemma dell'ordine, due colombe che si abbeverano allo stesso calice, immagine di profonda efficacia simbolica. Questo periodo dell'abbazia di Carceri coincide con la sua affermazione in un territorio sempre più ampio, dove sono riconosciuti la sua autorevolezza e il suo prestigio, derivanti dalla scuola di formazione religiosa e dalla proprietà dei suoi rettori, elementi che richiamano un elevato numero di allievi, molti dei quali poi entrano nell'ordine camaldolese o approfondiscono la preparazione all'Università di Padova. L'attività didattica dell'abbazia contribuisce a costituirsi di un ambiente culturale molto qualificato, che trova completamento nella costituzione di una grande biblioteca. Tanta ricchezza di aule, di oggetti, di opere letterarie è andata completamente dispersa e oggi rimane da ammirare in particolare la sala degli affreschi della biblioteca, decorata probabilmente dal fiorentino Giuseppe Salviati, con immagini ispirate alle sacre scritture e alla storia della Chiesa. Oggi in questo ambiente hanno luogo convegni e incontri culturali di rilievo. Del chiostro rinascimentale rimane la parte non crollata a causa di un ciclone molto violento che provocò la rovina dell'ala destra, probabilmente già indebolita nella struttura. Riparato il danno alla meglio, oggi è necessario effettuare un restauro attento, allargato anche ai diversi locali che vi erano compresi, per dare sicurezza e dignità a un edificio che può svolgere ancora una funzione di rilievo. Come è stato ricordato all'inizio, le condizioni dell'abbazia richiedono un lavoro di restauro per dare al complesso, anzitutto, sicurezza in tutti i suoi ambienti e ancora, per non perdere quanto è rimasto del suo patrimonio e della sua identità storica. Interventi specifici non sono mancati nel corso degli ultimi decenni, realizzati dalla parrocchia, dal comune e da altri enti. Ma è mancato, sembra, un piano globale di risanamento che ora è urgente attuare, unitamente a un progetto per il miglior utilizzo dell'abbazia di Santa Maria delle Carceri.